dedicati che ho fatto stasera questo pezzo qua questo è quello rotto avendo ordinato questo pezzo qua no questo che ha mai supporto motore c'era di rotto vibrava tutto tata tata vado a mettere la vita insomma qua a questo qua beh non già avvitava vedi questo qua il passo praticamente era diverso sono andato a vitar sotto già messo è andato a vita praticamente mi ha rovinato tutto il filetto questo ma l'ha rovinato tutto e non solo ha rovinato pure questo qua di dentro perché a forzare chiaramente che non si vedeva ho preso no ha rovinato anche il filetto interno allora ho dovuto prendere questo rifare il filetto questo nello stesso passo che questo anni vari passi quando per questo e poi c'è l'altro qua dentro qua eccetera sono rifatto questo qua dentro qua e poi questo con passato con la vita era rovinato passato qua dentro ma rifatto anche la filettatura con lo stesso passo e buona vita